Una partita un po' complicata, per alcune cose la squadra americana ha fatto molto bene perché hanno tenuto un ritmo altissimo, si è imbattuta ma soprattutto difesa, contrattacco, noi chiaramente meno brillanti, oggi serviva a un certo punto cercare di fare qualcosina in più. È stata una partita complicata, dal punto di vista tecnico è stata abbastanza complicata, domani se la vogliamo guardare in un modo come cerchiamo di fare sempre, propositivo, domani abbiamo una finale per il terzo e quarto posto per migliorare la posizione dello scorso anno e quindi adesso ci vediamo di recuperare e ci concentriamo sulla partita di domani.